salve a tutti benvenuti nella quinta puntata della storia delle freccette oggi vedremo una storia molto interessante non so chi di voi sa ma poco tempo fa praticamente in una località del piemonte mi sembra o della milione romagna adesso non mi ricordo bene ma non è tanto importante il luogo è importante la storia volevano comparare praticamente le macchinette da soft frecce elettroniche ai video poker quindi per cui volevano allontanarli dai centri allontanano dalle scuole perché visto come gioco d'azzardo come ludopatia tutte queste cose qua questa cosa poi per fortuna il sindaco di questa località disse no non c'entra niente sono due cose completamente diverse per fortuna e non ci sono stati problemi questa cosa successe anche nel 1908 praticamente un gestore di un pub che si trovava nelle lez nel yorkshire un tale anakin foot che è questo signore qua praticamente fu denunciato perché permetteva alle persone di giocare la freccetta nel suo pub fu denunciato ebbe insomma i suoi fastidi ma lui volle dar contro contestare questa questa sentenza andò in tribunale perché voleva dimostrare questo sport era un gioco di abilità e non un gioco d'azzardo quindi preso un bull si costruì un bull prese tra frecce andò in tribunale e disse al giudice io adesso prenderò 320 perché il bull era come quello della yorkshire cioè senza tripli e doppi con la numerazione di oggi prese 320 e disse sfidò chiunque di quelli che erano presenti a fare la stessa cosa un ragazzo che era lì in tribunale disse lo faccio io tirò la prima freccia andò completamente fuori dal bull la seconda uguale la terza si attaccò al bull ma molto distante dal 20 il giudice cosa disse signor anakin skywalker anakin foot ricordo mi viene da ridere un po' perché anakin skywalker perché ha visto star wars quando ho visto anakin no vabbè stupidaggine andiamo avanti signor anakin dice il giudice se lei becca altri 320 le do ragione anakin tirò altre tre frecce beccò 320 e questo sport venne riconosciuto come gioco di abilità e non come gioco d'azzardo mi sembra una cosa estremamente figa questa cosa ragazzi perché poi una cosa le storie si ripetono e poi questo anakin ci ha fatto un gran regalo grazie a questa sentenza potenzia molto il gioco venne praticamente si poteva giocare dappertutto ok in tutti i bari tutte le cose perché venne tolta questa cosa del gioco d'azzardo ma riconosciuto come gioco d'abilità quindi grazie signor anakin skywalker da lì praticamente nel 1924 fu fondata la national darts association chiamata nda perché le freccette in quel periodo avevano preso molto piede erano molto riconosciute molto famose per cui la nda cominciò a dare a fu fondo a questa questa associazione e diede le regole le norme a questo sport quindi per cui tutto quello che conosciamo oggi più o meno tranne qualche piccola e leggera variazione su qualcosa tipo la distanza perché mi sembra la distanza la 244 e dopo è venuta 237 a parte questa cosa qua praticamente il gioco e le regole sono quelle ancora fatte all'epoca la national darts association almeno questo mi sembra fino adesso mi sembra che sia così e quindi il gioco da lì fu preso a piede moltissimo in tutti i pub tutte le squadre di freccette divennero sempre più sempre di più sempre più incredibile no da lì praticamente la news news of the world che era un quotidiano britannico della domenica sponsorizzò la prima grande competizione del 1927 28 chiamata news of the world individual dart championship questo campionato ebbe un grande successo e vide come partecipanti ben mille persone al primo evento questo fu che è questo qua fu praticamente il primo campionato che fecero individuale la news news of the world praticamente pagava premi pagava tutte queste cose qui invece l'organizzazione dell'evento praticamente per far funzionare le cose a livello sportivo era della nda tutto ciò si tenne nell'area metropolitana di londra ma nel giro di tre anni già nel 1930 poi il campionato si espanse in tutta l'inghilterra per cui da lì prese molto piede chiaramente anche perché avendo normalizzato avendo dato regole tutto il gioco diventò un gioco importante ma il tutto prese una forma più grande più visibilità più pubblicità intanto vi faccio vedere anche questo qui che era uno dei primi dark club dell'epoca ma faccio vedere bene avete visto ma tutto prese piede quando praticamente la regina madre elisabetta giocò nel 1937 in un centro sociale del banking canonshire in inghilterra giocandoci la regina madre debbette praticamente un lustro talmente grande a questo sport che cominciare a giocare ancora molto più gente a farcette prese ancora più piede sia in inghilterra che nel galles che il numero dei partecipanti alla nuova competizione no sempre news of the world fu superiore ai 280 mila 280 mila persone sono tantissime l'ho letto in due tre posti quindi sarà giusto perché 280 mila ragazzi iscritti a questa competizione sono tanti però questo è quello che quello che era insomma perché l'ho letto in più di una parte quindi non è possibile che sia sbagliato e quindi la regina in inghilterra chiede da questo lustro nel mio 937 grazie la prima fine da questa finale fu tra jim pike marmaduke brick on che si tenne nel royal agritual hall di londra scusate la mia dicitura inglese ma ci fu una folla di ben 14 mila 500 persone a vedere questo questa finale quindi allora questo era il quotidiano news of the world che fu il primo praticamente a sponsorizzare le frecce magari che anche qualche giornale italiano sponsorizzasse le frecce visto tutti i soldi che beh non stiamo qui a discutere però sappiate se qualche giornale vorreste investire un po di soldi nella freccetta insomma sarebbe una gran cosa grazie anche the people che era un altro quotidiano britannico sempre della domenica nel 1939 praticamente organizzò il primo people national team championship l'altro è individuale e questo qua era team invece il national praticamente news of the world individual dark championship era praticamente uno dei più una delle competizioni a cui ogni freccettaro voleva vincere praticamente era molto importante per loro questa cosa quindi era come per noi adesso sarebbe andare a vincere la pdc praticamente era veramente una roba incredibile è chiaramente con la con la con la guerra si fermò un po tutto perché chiaramente se ragazzi c'erano altri fastidi e di per cui le competizioni la compre questa competizione viene ripresa nel 1947 48 ma questa volta fu a livello nazionale non era più in una piccola parte di london ma in tutta l'inghilterra e anche quelli a squadra anche i campionati a squadra ricominciarono praticamente dopo la guerra sarebbe mi piacerebbe sapere trovare come funzionavano i campionati a squadra comunque quella individuale più o meno si sa perché più o meno quella però quella squadra mi sarebbe sapere andrò a cercare molto più attentamente questa cosa però detto questo la nda praticamente non non si ripresa più dopo la seconda guerra mondiale ebbe un sacco di fastidi a rifondarsi e di avere un controllo poi a livello nazionale ma fino al 1954 quando arrivò di people e disse vediamo una mano noi e fondare rifondarono la national dust association of green britannia no of gran bretagna o inghilterra quello che volete che si veniva chiamata nda gb quindi nel 54 è stata fondata questa associazione perché prima con tutti i problemi che c'erano visto la guerra ha visto tutta questa ringraziamo questo the people che diede di nuovo riuscì di nuovo a far funzionare le cose negli anni successivi diciamo che dagli anni 50 60 si dice che il gioco ebbe un calo anche perché chiaramente poi ci sono stati problemi della guerra e tutto quindi chiaramente sono stati un po di fastidi ma l'organizzazione della n di agb si deve da fare insomma alla fine vennero quasi 4 milioni di concorrenti nella sola inghilterra praticamente tutti giocavano a freccette e parteciparono alla competizione nodor for che era sponsorizzata dalla nodor dark board company vi ricordate il video precedente dove ho fatto vedere il board il dar board della nodor ecco quello e quindi da lì poi è ripartito un po no poi anche le televisioni cominciarono a trasmettere negli anni nel 62 la west world tv international fu trasmessa per la prima volta le freccette nella nel sud ovest dell'inghilterra c'è solo una parte veniva veniva trasmesso in una parte dell'inghilterra poi successivamente dagli anni 70 80 la presa la bbc e anche la itv praticamente la itv praticamente faceva vedere anche le partite più piccole cioè tutte tornei interni con i più piccoli come se rete 4 facesse vedere le nostre gare più piccole in tv no i tornei insomma italiani e questo è tutto per oggi la quinta puntata poi vedremo la prossima volta che nel 1963 si istituì la video parlerò di questa cosa della video di come è nata la video e poi passeremo alla pdc e arriveremo ai giorni nostri quindi ancora un due puntate credo e poi avremo finito questa storia delle fraccette spero che questo video vi sia vi piacerà insomma perché insomma c'è tanto lavoro per questa cosa vi ricordo a tutti che potete seguirmi su canale telegram bulldozer darts dove io e francesco scriviamo teniamo aggiornati sulle varie cose sulle freccette abbiamo anche mandato tutte le cose delle gare della new new zealand che si è tenuto poco fa che ha vinto van gerwen sono stati due o tre partite che ho visto molto belle van gerwen ha giocato un po così poi si è puff ha tirato le schioppettate quando servivano no io sono un po di parte però vabbè non importa che non importa chi chi stimate dei giocatori un po' tanto che mi piace giocare a freccette io sono chiaramente mi piace van gerwen anche se poi alla fine si gioca van gerwen con Gary Anderson vinca chi gioca meglio per me questo è importante poi è uno sport dove è una cosa tranquilla no non è tanto un problema a me piace di vedere giocare bene tutto lì se van gerwen gioca male e vince un altro che gioca bene va bene uguale poi c'è il canale telegram sempre bulldozer darts chat dove potete scrivere per chiedere consiglie varie se volete seguirmi su instagram i van zeraldo mi fa piacere il canale twitch ho fatto solo due dirette per ora ma ne farò altre da settembre comincerò a fare gli allenamenti e se qualcuno volesse anche ascoltare la mia musica su spotify ben venga detto questo vi saluto vi ringrazio saluto a tutti ciao 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 ciao